Massimo Epifani è il nuovo allenatore del San Nicolò notaresco. Per Epifani si tratta di un ritorno alla corte del presidente Salvatore Di Giovanni dopo le quattro stagioni passate sulla panchina del San Nicolò dal 2013 al 2017, culminate con i play-off nel torneo 2016-2017. Per me è come tornare a casa, queste le prime parole del neo allenatore rosso-blu, spinto ad accettare la proposta notareschina anche dalla calorosità e dalle grandi tradizioni calcistiche della compagine teramana. E' un ritorno importante per la nostra società, ha commentato il presidente del San Nicolò notaresco Salvatore Di Giovanni, che ha spiegato come la scelta dell'ex tecnico, tra le altre del Pescara, sia stata fatta in funzione dei programmi ambiziosi della società.